Bene, bene, cari amiche e cari amici, siamo al nono match qua al Palabrasili di Ancona tra Castelli e Matteo contro Zachari e Lorenzo, due Elite senza caschetto Matteo della Iesina, canota rossa, mentre Lorenzo della Canappa, canota blu arbitra il referee, scarica le bordate, non trova il montante Matteo della Iesina Castelli e Matteo lì che lo inquadra, fuori misura Matteo, non colpire da lontano centro Lorenzo Alessandrini, bene, quella è di Lorenzo fuori misura, a parte da molto, sempre da lontano, deve accorciare, fare quel mezzo passettino Matteo Lorenzo lì che lo guarda, lo inquadra e niente, tiene sempre il centro ring sotto, sotto, e bene, in destra ragazzi, in destra di Matteo, buono, aveva trovato sprotetto e ha sprotetto Lorenzo della Canappa bello quel colpo pulitissimo di Matteo, ancora bene, ancora Matteo fuori misura, fuori misura Matteo bene bene adesso il montante di Lorenzo, canota, canota blu sulle spalle quel destro largo di Matteo sulle spalle quel destro largo di Matteo ce l'ha il destro ecco attenzione, non tenere il braccio teso che non è, non va bene Matteo devi partire col colpo ecco dai lo messo all'angolo bene quel destro di Lorenzo adesso sta incassando Lorenzo cerca di portarlo lavora bene piede perno è venuto via è venuto via Lorenzo, due bordate buone di Matteo Matteo e finisce il primo tempo. Seconda ripresa tra Castelli e Matteo della Iesina e Canota Rossa contro Zaccari e Lorenzo della Canappa Box. Ha visto Walter Canappa all'angolo, chiedono gli spostamenti a Matteo. Dopo il gancio destro ci andava il... è notato bene, adesso è entrato un colpi ditti Lorenzo. Andiamo a Teori che lo inquadra, lo anticipa Lorenzo, break. Attenzione la testa, la cavezza. La cavezza è pericolosa. Ha partito Lorenzo ma... sulle braccia, sulle braccia... Deve piegare le gambe, chiedono di piegare le gambe. A partire i colpi con la catena cinetica, bene quello destro e sinistro. Buono, buono momento, buono la fase di Lorenzo. Bene quel gancio in uscita di Lorenzo. Cerca di inquadrarlo. Cerca di inquadrarlo, si becca Lorenzo con sinistro di Matteo. Bene quel... Ah, bene quel... Destro e sinistro. Destro e sinistro di Matteo. Destro e sinistro di Matteo. Con la sinistro di Matteo. Adesso ancora con la destra. Destro e montante. Sta seguendo bene ancora. Passi il destro. Attenzione, staccatevi ragazzi. Non girate. Tornalino. Nuono di due 19 singoli bene. Fuori misura... Fuori misura. Vedo un po' difficoltà di respirazione di Lorenzo. Bene il destro, però è entrato un destro. Questo è il paradenti. Ho già visto con la bocca aperta Lorenzo, è la prima volta che perde il paradenti, il referì, adesso aspettiamo l'ultimo scampolo, gli ultimi 4 secondi e finisce. L'ultimo tempo di questo bellissimo match qua ad Ancona, vediamo se Matteo dopo che ha ascoltato il suo coach Lorenzo Alessandrini lo invita alla calma e gli dice fai quello che ti ho detto nel momento di riposo. Lorenzo è lì che ha sempre respirazione, mi sembra un pochettino affannosa di Lorenzo. Ancora bene Matteo, bene, parte Matteo. Forza Matteo e forza Lorenzo, bene. Bene, quel gancio sinistro, bene anche quel destro che arriva parzialmente sul volto di Lorenzo. Matteo, non arriva in misura, lo anticipa Matteo. Vediamo che lo anticipa, bene, destra sinistra chiede il colpo, chiede il colpo basso al corpo. Bene, adesso è arrivato un colpo al fegato di Matteo. Con il colpo al fegato di Matteo. Adesso è arrivato un colpo al fegato di Matteo. Adesso è arrivato un colpo al fegato di Matteo. Lorenzo fuori misura, però vedo con la bocca strotta. Difficoltà di ispirazione. Un colpo al fegato di Matteo con la testa di Lorenzo. Matteo lì che è in calza, è in calza. Lo vedo un po' provato, lo vedo un po' provato a Lorenzo. Forza, forza Lorenzo. In desto, in desto ragazzi. Ancora col montante e finisce. Viene contato, ma l'avevo già visto in difficoltà, bocca aperta. Ha preso il fegato. Un colpo omicidiale, un colpo preciso al fegato. Lo ha preso in pieno. L'aveva trovato Lorenzo senza guardia ed è entrato. Aspettiamo quello che per noi è solamente una conferma. Per noi è Matteo che ha portato a casa il match al di là del conteggio che non è ininfluente. Però avevamo già visto il vantaggio di Matteo. Comunque, aspettiamo il verdetto perché non si sa mai. È all'angolo rosso e Matteo porta a casa il match. Bravo comunque, Lorenzo è l'amorosa da salutare. Vuoi salutare qualcuno? Niente, non vuole salutare nessuno. Matteo, vuoi salutare qualcuno a casa? Ciao Aurora. Ciao Aurora. È l'amorosa? Sì. Va bene, ok, ciao Aurora a che noi associamo. Bene, grazie, grazie.